Un anno di serate, feste, concerti, dibattiti. La banda musicale di Marchirolo celebra lo sbalorditivo traguardo di 200 anni dalla fondazione. Una storia lunga e gloriosa che affonda le radici in un passato ancora più remoto di quello dell'Italia Unita. Un sentiero virtuoso e melodico che ha attraversato a ritmo di musica guerre sommosse, cambi di mode, passaggi epocali. Il mappamondo ha modificato i propri confini, il bel paese si è spostato dalla campagna, all'industria, ha conosciuto il dolore, ha seminato macerie, ha costruito un nuovo futuro che poi è diventato presente e che oggi è archiviato nuovamente al passato, sepolto da scoperti, invenzioni, tecnologie. Ma lei, la mitica banda, è rimasta lì, ancorata a una tradizione che da due secoli scandisce il senso della comunità. E così eccoci di fronte al più ambizioso dei calendari, una serata al mese per tutto il 2020, prossimo appuntamento il 31 gennaio, evento clou il 20 giugno a Villa Agnesi. Dopo il secondo dopoguerra la banda ha avuto diverse vicissitudini e dopo alti e bassi nel 1997 l'allora sindaco, nonché tuttora Dino Busti, ha voluto istituire la banda musicale comunale di Marchirolo. E da allora appunto abbiamo portato avanti ancora tutta la nostra storia, arrivando fino ai giorni nostri e come dicevo, era molto radicata sul territorio comunale perché partecipa ad ogni evento della comunità, sia un evento triste che un evento gioioso. E soprattutto ha una sua scuola allievi nella quale partecipano annualmente dai 20 ai 30 ragazzi, che perciò ha un travaso di cultura sul territorio molto importante. Dicevamo, il primo evento all'orizzonte, anche se già ci sono stati altri, è quello del 31 gennaio. Il primo evento all'orizzonte esattamente è il 31 gennaio, che sarà dedicato al giorno della memoria, che vedrà una conferenza del dottor Franco Gianantoni, la Shoah nei luoghi di confine. E poi seguirà un concerto di musica Klesmer, dei Kletmorin Maseltov. E poi da lì andiamo avanti tutti i mesi, fino alla fine del 2020, con un evento clou che è previsto a giugno. A giugno, sabato 20 giugno, presso la stupenda Villanesi, nel parco di Villanesi, dove ormai da dieci anni facciamo il concerto come banda. Quest'anno, in occasione, oltre che del bicentenario della banda, ma inoltre del 125esimo anno di presenza della caserma dei Carabinieri sul nostro territorio, abbiamo voluto creare un evento ad hoc, invitando la fanfara del terzo leggimento Carabinieri Lombardia di Milano ad eseguire un concerto da noi.